Giuseppe Michele Cosentino, rappresentante degli studenti del liceo Luigi Costanzo. Siamo qui a Stoveria Manelli per la prima fiera dell'artigianato e dell'agricoltura nell'Istituto Agrario. Sì, in quanto rappresentante degli studenti parlo a nome di tutti e rappresento la nostra felicità e il nostro orgoglio per questa azienda agraria che fa parte dell'Istituto Costanzo in seno all'Istituto Agrario e che oggi compie 50 anni di vita. Siamo molto contenti di essere qui, di essere presenti a questa manifestazione che è una bellissima manifestazione di quella che è la migliore delle calabresità. Il nostro artigianato, le nostre migliori qualità rappresentate oggi in un unico punto, concentrate oggi qui dove ci troviamo nell'azienda agraria di Sovereia Manelli in questa bellissima cornice a Grest. Quindi io ringrazio a nome degli studenti del liceo, la dirigenza e tutti gli organizzatori di questa fiera per averci permesso oggi di poter prendere parte. Grazie.